Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pagine Aperte Web, la finestra online che vi fa leggere i libri col cuore. Ormai il Natale è alle porte e ho scelto di presentarvi uno degli ultimi libri delle novità editoriali delle edizioni paoline. Un libro che ci permette davvero di entrare dentro il Natale. Un autore speciale, un autore conosciuto da tutti. Grazie ad Anselm Grun riusciamo a vivere un vero e proprio percorso, un itinerario di fede che ci permette di comprendere come Dio si fa vicino a noi. Quello che l'autore vuole fare è davvero, come dice nel sottotitolo, farci riscoprire la fede e farla rinascere nei nostri cuori. Anselm Grun è un autore noto ai più, uno degli scrittori più noti contemporanei cristiani, ma non è solo uno scrittore. Penso che sappiate bene che è un monaco benedettino ed è uno dei più importanti teologi, uno dei più importanti padri spirituali, che in questo libro diventa proprio come il nostro padri spirituale. Si mette a fianco a noi, si fa vicino a noi per farci fare un nuovo cammino di fede, per far nascere, anzi rinascere in noi una nuova fede. Ma perché Anselm Grun sceglie di dare questo titolo al libro? È lui stesso che ce lo dice nella prefazione. Avvertiamo, dice lui, tante particolari emozioni quando viviamo l'Avvento, ed è vero. Ci fa capire come tanti di noi nell'ascoltare la parola di Dio o anche nella semplice canto vivono delle emozioni forti, però non sono magari in grado di andare oltre queste emozioni, non sono in grado di comprendere qual è il mistero del Natale. Lui trova un modo particolare in questo libro per farcelo riscoprire. Ci fa capire cosa sono le antifone. Ecco, quelle che lui chiama antifone maggiori, ovvero delle brevi preghiere che si dicono negli ultimi sette giorni di Avvento che ci accompagnano al Natale. Insomma, siamo proprio alle porte. Eppure sono preghiere che sono state molto spesso messe da parte, ma hanno dentro un tesoro profondo. Anselm Grun riesce a trasmettere davvero delle emozioni forti, una testimonianza vera di fede. Quello che lui stesso prova da tanti e tanti anni nel recitare questi inni. Trasmette davvero la profondità delle sue emozioni e ci accompagna. Il libro si divide in due parti. Una prima parte dedicata all'Avvento e una seconda dedicata al Natale. Nella prima, come vi ho accennato, l'autore presenta le antifone. E ci spiega come queste ci aprano le porte al mistero del Natale. Un mistero che si può descrivere, secondo Grun, solo attraverso delle immagini. Quelle che lui ci propone, delle immagini forti che ci fanno capire come la saggezza e la dolcezza del Signore si uniscano nel mistero della nascita di Gesù Bambino. Grun ci mostra come queste siano delle vere e proprie perle di saggezza. È vero, sono state scritte duemila anni fa, come l'autore ci sottolinea e ci ricorda, ma non sono per nulla distanti dalla nostra vita, anzi tutto il contrario. Grun ci fa riflettere proprio su come ormai i masmedia ci bombardino di tante perle di spiritualità e di tanta tanta saggezza o così dicono. Ma come possiamo davvero capire se queste frasi sono profonde, cioè rispecchiano o rispondono alla nostra fede? Grun nel suo libro non ci dà delle risposte preconfezionate. Si fa veramente il nostro padre spirituale e ci fa capire come solo la luce del Signore che entra nel nostro cuore ci può far capire qual è il mistero della fede. Il Signore, ci dice Grun, risponde a ciascuno di noi e ci indica quale è la via da percorrere, la stessa che Gesù Bambino ha portato e porta nei nostri cuori. Grun nel suo libro ci mostra uno dei suoi segreti, uno dei suoi tesori nascosti, così lo chiama, ovvero il silenzio, fare silenzio nel nostro cuore per ritrovare la pace e la libertà. Il silenzio è una delle note, una delle caratteristiche che contraddistingue tutti i libri di Grun e l'autore ci fa comprendere alla fine di ogni capitolo come dobbiamo lasciare spazio alla meditazione. Ci lascia proprio uno spazio che noi dobbiamo ritrovare nella nostra giornata, nella nostra quotidianità. Un silenzio, ci dice l'autore, che è tesoro per la vita nuova. Fare silenzio e meditare è lasciare spazio per ascoltare il nostro cuore, ci dice l'autore. Un cuore che si apre da solo nel silenzio e in cui Gesù Bambino può entrare. Sono molto belle le parole con cui l'autore conclude il suo testo e ci dice che nel canto Gesù bussa al nostro cuore, sta a noi lasciarlo entrare ed essere pronti ad accoglierlo. Nella presentazione che ha fatto del libro negli ultimi giorni di novembre, l'autore ci dice come meditare sul mistero del Natale significa riscoprire il proprio essere creatura. Grun ci augura che queste pagine tocchino davvero il cuore di ogni lettore, entrino nel profondo della nostra spiritualità portando Cristo nel cuore affinché nasca per rinnovare, rischiarare e risanare ogni vita. Un augurio veramente profondo fatto da un teologo che si fa nostro padre e nostro compagno di vita. Emozioni veramente profonde in questo libro. Il secondo libro che vi voglio presentare mi ha colpito perché è una delle novità editoriali che le Pauline hanno dedicato ai bambini. Come far scoprire ai più piccoli la ricchezza e il tesoro che c'è dentro la Bibbia? Penso che il Natale sia veramente un'occasione speciale. Regalare un libro è veramente regalare e scoprire un tesoro. Questa è l'ultima novità che hanno pubblicato le edizioni Pauline. Raccontami la Bibbia, un libro scritto da Carmen Palomo, una scrittrice spagnola che è riuscita in questo libro a raccontare la Bibbia, come dice lei a far conoscere ai bambini il sogno di Dio. Il libro racchiude le più belle pagine della Bibbia scritte su misura per i bambini e permette attraverso i disegni e le raffigurazioni di comprendere e di far capire al meglio ai bambini quanta sia grande la gioia nel Signore che si racconta e ci racconta la storia della salvezza. Guardate come sono belli i colori delle immagini, bellissime le raffigurazioni con cui viene mostrata la nascita di Gesù e così anche le tante e tante raffigurazioni legate alle parabole e ai miracoli con cui l'autrice racconta il tesoro nascosto, lo stesso di cui parla Anselgrun, della nascita di Gesù e della sua vita. La narrazione colorata permette di comprendere ancora di più quale sia la continuità tra l'Antico e il Nuovo Testamento. I personaggi guidano proprio i bambini all'interno della lettura, ma l'autrice è molto brava a far comprendere ai più piccoli come in realtà questo sia un racconto, non sia una favola fantastica, ma sia una vera e propria storia della salvezza. Siano 4.000 anni di storia in cui i bambini si devono sentire veri protagonisti, una storia di cui loro stessi fanno parte, che fa parte del loro passato, un Gesù che è vissuto tra noi e con noi, tanti e tanti apostoli che hanno permesso alla Chiesa di nascere e di continuare la loro vita e di arrivare a quella che ora, per i bambini e per noi, è la nostra parrocchia. Veramente una testimonianza bella, i disegni invitano alla lettura e i colori rendono ancora più vive e emozionanti le scene per i bambini. All'interno della stessa collana, che si intitola Grandi storie per giovani lettori, è stato pubblicato un altro testo, legato maggiormente alla narrativa, che si intitola Raccontami una storia, ed è scritto da diversi autori, è stato curato da Miriam Salajero, anche questa un'autrice spagnola. Il libro racchiude tante storie, tanti racconti, sia fiabe classiche come può essere Capucetto Rosso o Alice nel Paese delle Meraviglie, così come altri racconti meno conosciuti, ma che davvero trasmettono ai bambini delle note che hanno la loro particolarità e la loro profondità. Un libro davvero che può rispondere ai genitori che si sentono tante volte dire dai figli Raccontami una storia. Ma perché non regalare un libro ai bambini per Natale? Davvero una ricchezza profonda che i bambini possono sfogliare, non solo con le mani, non solo con gli occhi, ma che rimane dentro al cuore. Vi ricordo i titoli dei libri che vi ho presentato. Il primo è il libro di Ansel Grun, Dio si fa vicino, edito dalle Paoline. E gli altri due libri che vi ho presentato fanno parte della collana Grandi storie per giovani lettori. Il primo è Raccontami la Bibbia, scritto da Carmen Palomo, e il secondo è Raccontami una storia, curato da Miriam Salagliero, entrambi per le edizioni Paoline. Vi do appuntamento alla prossima puntata e incomincio ad augurarvi, con tutti gli altri che lavorano con noi in studio, tanti auguri per un buon Natale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!